Fuori tutto, adesso è facile dirlo, però è veramente così e mi ha dato questa calma di essere consapevole che siamo forti, così è stato. Adesso vedremo, arriva una disciplina che è lo slalom, dove sto sciando molto bene al momento, da domani faccio qualche prova, mi allenerò un po' e poi vedremo domenica. Sono serviti i quattro quarti posti? Sì, l'ho già detto prima, due gigante e due in slalom, mi hanno servito perché mi è stato restituito qualcosa di quest'anno, dove già come oggi di nuovo ero in fondo qua a sperare, veramente a combattere. Ho guardato a Svindal che ha qualche sbavatura a destra e a sinistra, però poi alla fine ha bastato per arrivare al terzo io e di questo sono contento. Però ci ho creduto fino in fondo, come detto, da tutta la stagione, sono tornato in gigante e per me in gigante. Prendere una medaglia mondiale è una cosa incredibile, vale veramente oro perché tornare a una stagione come l'anno scorso e poi tutta la stagione combattersi lì davanti, poi con loro due, Irser e Ligeti, che stanno andando veramente molto forte ad essere lì e penso che vale tanto. Hai fatto venire un infarto a Manuela? Sì, va bene che anch'io si fatava dire a me, no a Manuela l'ho vista subito, ce l'ho sentita dal parterre, anche se c'era tantissima gente. Sì, mi ha ammazzonato quando l'ho vista perché so cosa ha passato anche lei e sono molto contento per il risultato che ha fatto lei ieri, un passo in avanti e poi oggi il mio risultato sicuramente gli dà tanta carica. Combattiamo e guardiamo avanti. C'è stato soltanto un momento negli intermedi in cui avevi perso qualche cosina, l'ultima parte è stata straordinaria ed è stata proprio la parte dove hai fatto la differenza rispetto a Svindal, infatti non vorremmo che poi alla fine si dicesse che ha perso Svindal quando invece l'ha proprio guadagnata MOLG. Penso che l'ho guadagnata perché l'ho persa in cima la seconda, perché mi sono sdraiato, ho perso 7-8 decimi quello che mi hanno detto e poi ci ho creduto col cuore fino in fondo, ma veramente lo dico poche volte col cuore perché la volevo, l'ho cercata e adesso capisco quando tanti dicono ha cercato sta medaglia e oggi l'ho cercata.